Tu lo risolvi, però aspetta, non ti ho detto come, dietro la schiena, più velocemente che puoi, quando pensi che sia risolto, me lo devi dare, quando pensi che sia risolto, prova a risolverlo, e vi spiego anche perché, perché è meno stressante per lei, non deve guardare e pensarci, vai, andiamo, ok, ti sei avvicinato, tu decidi tra loro, chi vuoi fare, eh, fanno tu, risolvi, sempre dietro la schiena, quindi, primo cubo l'hai fatto tu, ti sei avvicinato, se si avvicinasse comunque anche lui di un po' sarebbe impressionante, no? Perché non l'ha nemmeno guardato, va, allora dai dietro, fatto, vediamo, ti sei avvicinata, no, ti sei avvicinata molto di più, però, la domanda è questa, ve lo chiedo anche a voi, quante combinazioni ha il cubo di rubri, c'è un numero abbastanza elevato, pensateci un attimo, quante combinazioni ha? a circa 59, 53 miliardi di combinazioni, ce ne sono tantissime, però, avvicinati, avvicinati un po', però, io cosa vi ho detto? Che uno di voi due, cioè voi due, farete qualcosa di assurdo, voi vi siete avvicinati molto di più di quello che pensate, non ci credete, guarda, prima faccia è uguale, prima è uguale, seconda faccia è uguale, terza, quarta, quinta e sesta. Tutte le facci le avete fatte i compiornati, guarda, lo sapete, ora ne ne ho fatto noi due, anche di, però sai quella è la parte più bella del gioco? Che uno di questi cubi, no, è stato mescolato da voi, perché sono uguali, no? Quanti secondi mi dai per risolverlo? Uno. Gesù Cristo, no dai, otto secondi, metodo tradizionale sarebbe quello di guardare i colori e risolverlo piano piano, no? Otto secondi, provo a contare, cerco di rimanere sugli uomini, come vuoi di più? Io ho colto e mai, ah lui ha il tempo, quindi conto io, tre, due, uno, via, uno, due, tre, tre, quattro, cinque, sei, otto, più di otto secondi, vabbè otto, no? Però l'ho risolto, no? Otto sono ancora tanti, però, sono ancora tanti, no? Bello, vediamo, ho fatto con una mano, se riesco, appunto, vedete lo schieno, se riesco, adesso lo mescolo così proprio il ruolo, quanti secondi mi dai? Così, a primo impatto, vedelo così. 3 secondi, vediamo, io direi che uno, basta, bravo, 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 grazie, grazie.